Il mondo affoga nei rifiuti. Il tema dei rifiuti era un tema di emergenza rifiuti. In un anno ognuno di noi è responsabile della sorte di circa 380 kg di immondizia, una montagna. Se non c'è una condivisione di quello che fai, non funziona. Ma l'italiano se ne frega, è individualista, non ha senso civico, non la farà mai questa macchina, siete matti. Tanto cade, tanto il bambino non riesce a camminare, invece è riuscito a camminare. È il bel paese perché sappiamo fare delle cose che in altri paesi non si riescono a fare. Italia sul podio europeo per il riciclo. Italia seconda solo alla Germania. Una delle più belle esperienze di dialogo e di organizzazione che c'è stato fra i prezzi. C'era una grande squadra, ognuno con le proprie competenze, ognuno con la propria mission. Noi dobbiamo fare oggi ciò che serve a vivere bene domani. Non sono più soltanto una pedina del sistema, ma divento il perno centrale di quel sistema. Come sistema Italia abbiamo fatto un gigantesco passo avanti. Se non si mira all'impossibile, non si riesce a fare il possibile.